Bello ragazzi sono GDGT Oggi ragazzi siamo tornati qui con una nuova team box 2010-2011 Dei 50 anni della Panini E ora sono i 60 anni Sono presi ben 10 anni Apriamo la team box subito proprio così Aperta, magia E no abbiamo aperto 2 secondi Ce l'ho fatta E vabbè Ok ci siamo Nessun problema E ok abbiamo i nostri 5 pack Eccoli lì Altrimenti appartengono sempre da quelli in omaggio Se vedete Una pelpa molto bella E' la mia Cioè non proprio Iniziamo Allora questi pacchetti li mettiamo fuori dalla inquadratura Via Apriamo Intanto sto giocando Oh Oh attenzione Il Benevento Cioè però Ora sto giocando Cagliari e Benevento E sta vincendo il Benevento 2-1 Cosa Cosa Oh ce l'ho fatta da prenderlo tutti insieme Oh attenzione Filfil del campionato Lorenzo e Roberto Insigne insieme Fratelli di gol Poi andiamo Murru del Torino Deusweil del Bologna Ruggeri E Giacoponi Che schifo di pacchetto Inizia la grande Oh maglia C'è una maglia Attenzione Intanto delle biglots Ce l'ho già già tutte le maglie Quindi Mi manca Alcune maglie La maglia della Samp Che forse già ce l'ho E ce ne ho Pisa Paolo Pezbono Scoletto da Spal Criscito Finalmente Criscito Finalmente L'ho trovato Finalmente Ci ho messo tre anni Per trovare quel Criscito E l'ho trovato Andiamo con l'altro pack Vediamo subito tre giocatori Infatti Virtus Entella Oh Ti chi è Kolarov Però mi sa che ce l'ho Sì infatti ce l'ho Che io poi non vedo da qua Vedo da qua Poi abbiamo Ghiglione Muriel No ce l'ho già Chi è questo? Al contrario L'hanno messo Goldaniga Bellissimo Andiamo avanti Con l'altro pack Ti prego Fammi trovare robe buone Allora abbiamo Eusebio di Francesco Che è Di Carmine Questo è buono Zappa Costa E temai E degli album Che questi Mi sa che ce l'ho Andiamo con l'ultimo pacchetto Di oggi Non abbiamo trovato Chissà che Però c'è questo pacchetto Che Roma Attenzione Roma Beh Ho trovato tutti Della Roma Quindi Che è Spinazzola Questo mi sa Che non ce l'ho Spinazzola Questo me lo voglio spizzare Ecco Sassuolo Ciccio Caputo Eh però ce l'ho già Eh me l'hai trovato tu Pordenone Ti prego Napoli Lozzano Però mi sa che c'è lozzano E' sculetto Della spezia Dopo si vede benissimo Come si vede Ok Abbiamo finito Anche oggi E i biodi del giorno I biodi del giorno Sono Allora Dove è Criccito Non lo trovo Non trovo Criccito Comunque Criccito Vorrei mettere Ecco Oh Ecco qui Criccito Però il micro Si è trovato Già Eeeh Mi si chiama L'altro Lozzano L'ho già trovato Vabbè Non mettere Ciccio Caputo Eccolo Spinazzola Non mi ricordo Se ce l'ho O no E non lo mettiamo Per sicurezza Mi ricordo che Avevo visto Uno Spinazzola Comunque Il migliore del giorno E' proprio lui Domenico Criccito Che cosa Che se non avessimo Caputo e Muriel Avete trovato Caputo e Muriel Quindi E' andato abbastanza bene Domenico Criccito Che ho Fanta Calcio Che oggi Non l'ho messo Perché giocherà Contro il Sassuolo Che abbiamo Ciccio Caputo Bogà E l'altro Di unici Che fanno il bordello Va bene Spero che questo video Vi sia piaciuto Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti